Buon pomeriggio e bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Snack News. Oggi è il consueto lunedì delle dirette, ormai un'iniziativa che conosciamo tutti, che si inserisce all'interno del progetto di informazione economica e non solo dedicato ai più giovani, ideato da Corriere della Sera e Bocconi. Ricordiamo che, come al solito, nelle dirette abbiamo dalla nostra parte il fattore tempo, perché rispetto alle normali pilole video avremo sicuramente più tempo per approfondire il tema che abbiamo scelto, per porre le nostre domande al professore Bocconi che abbiamo collegato con noi. Il tema che abbiamo scelto oggi è sicuramente un tema di cui si parla tantissimo da sempre, ma in particolare negli ultimi mesi e nelle ultime settimane, ma che da diversi anni abbraccia sia il presente ma soprattutto il futuro, perché oggi parliamo di intelligenza artificiale. Ci renderemo conto come, innanzitutto, da dove sono arrivati i primi progetti, poi ci renderemo conto come è sempre tra noi anche nelle cose che almeno ci aspettiamo e cercheremo poi soprattutto di capire perché ci sono diversi personaggi di big della tecnologia che in queste ultime ore raccontano i rischi di uno sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale, ma allo stesso tempo vedremo anche come in diverse applicazioni può essere non soltanto utile, ma può anche essere davvero importante per l'umanità stessa e per salvare vite applicato a determinati settori. Per fare tutto questo avremo con noi collegata Francesca Buffa, che è Professor of Computing Sciences della Bocconi. Buon pomeriggio, professoressa. Buon pomeriggio. Eccoci. Allora, prima di iniziare la nostra puntata, facciamo vedere una delle ultime pillole video che parlano proprio di questi temi, quindi cercheremo di chi ci introduce rispetto ai temi che poi toccheremo e poi iniziamo la nostra chiacchierata. L'intelligenza artificiale serve per copiare i compiti? C'è un software per fare temi e tesine? Scopriamo tutto quello che c'è da sapere sul caso ChatGPT. Partiamo dagli ultimi sviluppi. A fine novembre OpenAI, una società di ricerca sull'intelligenza artificiale finanziata da alcuni imprenditori della Silicon Valley, ha presentato al pubblico ChatGPT. Si tratta dello sviluppo di un software comunemente noto come ChatBot e che è utilizzato per comunicare tra gli utenti. A differenza di altri sistemi, però, ChatGPT permette anche di creare dei contenuti testuali credibili. Proprio per questa capacità di generare in pochi secondi dei piccoli saggi, il bot è stato usato negli States da migliaia di studenti per fare i compiti e consegnare temi agli insegnanti. Pensate che per questo motivo l'accesso a ChatGPT è stato limitato nelle scuole di New York e Los Angeles. Ma quali sono i rischi dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella didattica? ChatGPT è l'ultimo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Ci ha sorpresi tutti della sua capacità a scrivere testi in risposta a delle domande anche brevi. Naturalmente, gli studenti pensano di usare quest'algoritmo per scrivere dei saggi che sono chiesti a scuola. Però dobbiamo essere attenti, perché la concezione, la scrittura di testi è un elemento molto importante della loro formazione intellettuale. La preoccupazione principale è abbastanza ovvia e riguarda l'impatto che questo software potrebbe avere sulla capacità di sviluppo di pensiero critico degli studenti, oltre che a far ripensare alle modalità con cui vengono assegnati i compiti e alla loro utilità. Non andiamo però a demonizzare la tecnologia, il problema è sempre l'uso che se ne fa. E chiediamo quindi al professore quali sono i vantaggi. ChatGPT è appena uscito. Le sue risposte sono abbastanza vaghe, con errori di fatto. In futuro, gli studenti potrebbero appoggiarsi su questo tipo di programma, però tenendo un occhio critico sulla loro produzione. Ricordiamoci le lezioni del passato. 40 anni fa, i calcolatori erano banditi dalle scuole. Ormai proviamo di insegnare il computer il più presto possibile. E non è tutto. I bot possono diventare una grande minaccia per i motori di ricerca, che ormai dalla fine degli anni 90 organizzano e distribuiscono i contenuti in rete. E sì, perché chiedere consigli e informazioni a un chatbot potrebbe essere più semplice e veloce di inserire un termine nella barra di ricerca. Quindi la questione si fa ben più complessa del problema etico dei compiti a casa degli studenti. Allora, professoressa, forse come dicevamo prima non ce ne accorgiamo, ma l'intelligenza artificiale è già tra noi nella vita di tutti i giorni. È così? Sicuramente. Sicuramente usiamo l'intelligenza artificiale in quasi tutte le azioni che facciamo che hanno un certo significato dal connetterci al computer con la banca, per esempio e quindi tutta l'applicazione delle AI alla prevenzione delle frodi. Da quando andiamo all'aeroporto ci sono gli scanner, passiamo attraverso gli scanner, il passaporto è scannato, anche qui ovviamente c'è una grossa applicazione dell'intelligenza artificiale per la sicurezza, per poi andare all'amministrazione, per poi andare alla medicina. è il tempo libero, insomma la usiamo in tante applicazioni giornaliere o quasi giornaliere. Ecco, diciamo appunto anche nello svago e nel multimediale, siccome parliamo ai ragazzi le prime cose che ci vengono in mente sono sicuramente piattaforme che loro usano tutti i giorni, immagino, come Spotify o Netflix per dire. Lì l'intelligenza artificiale è davvero presente. In che modo, come funziona e come ci aiuta? Allora, ci sono diversi modi in cui queste piattaforme usano l'intelligenza artificiale e tra l'altro è una questione di evoluzione, nel senso che poi il modo in cui la usavano cinque anni fa è diverso dal modo in cui la usano adesso. Ma per esempio Netflix che menziona e Spotify hanno sicuramente un uso delle visioni precedenti, della cronologia, dello user per proporre contenuto che interessi allo user. Netflix conta anche, tiene in conto anche dell'età dello user per produrre contenuto della giusta fascia d'età, per esempio. Spotify ha tra l'altro delle funzioni nuove che sono proprio basate, le sentivamo prima, CiaoGPT che usa l'elaborazione del linguaggio naturale, a Spotify delle funzioni nuove tipo questo IDJ che mi dice mia figlia che usa il linguaggio naturale per proporre rapidamente tutta una serie di canzoni anche solo partendo da un pezzo del testo, non di tutto il titolo della canzone, per esempio. E quindi facilita ricerche, selezioni, è un po' come un ordinario, una libreria, però in maniera più automatica, insomma. Restiamo ancora un momento nel generale. Diversi esponenti del mondo della tecnologia, tra cui lo stesso Bill Gates, ama dividere l'intelligenza artificiale in due fasce, quella generale e l'intelligenza artificiale stretta. Quali sono le definizioni di questi due tipi di intelligenza artificiale? Allora, cerco di non andare troppo tecnica perché sennò qua perdiamo. Certo. Però comunque, l'intelligenza artificiale generale per dare un esempio che a me piace dare e che uso spesso è il robottino Wall-E, il film del 2008-2009, che è uscito con questo robottino che è lasciato solo sulla Terra e ha un task che è quello di raccogliere l'immondizia e impacchettarla. Però poi impara a fare tutta una serie di cose, incluso a guardare la televisione, aggiustarsi da solo, insomma, impara. Impara in un contesto che varia, che è diverso. Quindi l'intelligenza generale, per esempio, come una delle caratteristiche è quella dell'apprendimento generalizzato. Questi robot che riescono a imparare anche in contesti diversi. Dopodiché che si adattano, come faceva Wall-E, si adattano a situazioni, che ragionano e che cercano di risolverle, no? E poi, vabbè, ultimo stadio, l'intelligenza emozionale. Wall-E che si innamora di Eve e coronano quest'amore. Quindi, questo è, se vogliamo, l'intelligenza generale completa, no? Che però, ovviamente, esiste solo nei film, come Wall-E, e che è molto lontana per adesso, se mai ci si arriverà. quella che invece è in comune a tanti dei tool che noi vediamo è un'intelligenza ristretta. Cos'è l'intelligenza ristretta? Diamo un altro esempio, così è facile. Il bot che gioca a scacchi. È bravissima giocare a scacchi, tanto bravo che batte un campione di scacchi, però gli chiedo di giocare a Dama, un altro gioco, e non è capace. Quindi è un'intelligenza che è stata esercitata a fare un'azione specifica e quella la fa molto, molto bene, anche meglio degli uomini, però che non ha capacità di apprendere in contesti diversi. Questi sono i due antipodi. Poi, ovviamente, ci sono delle applicazioni che non fanno solo un task adesso, ma che ne fanno più di uno, e vabbè, è tutta la strada da uno all'altro di questi due antipodi. Spero di aver dato un'idea. No, no, assolutamente. È stato molto chiaro, anche molto divertente, devo dire. E una delle prime fonti, no, forme di intelligenza artificiale che ha attirato la nostra curiosità e che è diventata più generalista, soprattutto negli ultimi anni, è quello dell'autopilot, ossia della macchina che si guida da sola o comunque l'assistenza nel parcheggio. Insomma, l'intelligenza artificiale applicata alla guida. Ovviamente, come tutte le cose, anche l'intelligenza artificiale ha bisogno di spinta economica e non solo. Il settore dell'automotive, che è molto forte, molto potente da un punto di vista economico, può essere un volano, un qualcosa che spinge davvero verso il futuro questo tipo di progresso? Ma sicuramente una spinta la sta già dando perché ci sono già tanti usi delle AI nelle macchine anche quotidiane, senza pensare alla self-driving car, quella macchina che si guida da sola, no? Sì. In cui noi usiamo navigatori, quindi l'intelligenza artificiale è già entrata nelle nostre macchine, no? Poi da lì a una macchina che si guida da sola, beh, il passo è lungo e appunto si parla di andare sempre più vicino a una conoscenza o a un'intelligenza generalizzata e non ci siamo ancora. Però comunque sicuramente anche per il fatto di prevenire incidenti l'industria dell'auto sicuramente sta già, quindi non è che solo può, ma sta già sviluppando tutta una serie di servizi e applicazioni in questo senso, questo sicuramente, sì. C'è poi tutto il filone dell'intelligenza artificiale, quella che è generativa, quella di cui si parlava prima con il chat GPT e di cui si parla tanto nell'ultimo periodo anche non solo per questioni positive, anche abbiamo visto appunto c'è tutto un tema di sicurezza dei dati personali, insomma una cosa, un tema di cui si dibatte, di cui si dibatte, su cui si dibatte molto. Adesso però OpenAI ha già presentato lo sviluppo, insomma si corre veramente tanto, questo è veramente uno dei settori in cui si va più veloce secondo lei? Beh, in questo momento specifico sicuramente, anche perché c'è l'entusiasmo, quando arriva qualcosa di nuovo c'è un grosso entusiasmo, c'è una grossa potenzialità perché i dati che queste applicazioni usano sono adesso veramente grandi quindi con tanti dati perché senza dati l'intelligenza artificiale fa poco ma con tanti dati come ci sono adesso tanti dati di testo ovviamente comincia ad avere modelli che sono interessanti e in effetti gli ultimi sviluppi sono molto interessanti perché diventano sempre più si può dire realistici anche se sono distanti dal reale però alcune applicazioni specifiche alcune risposte specifiche di chat GPT sono già abbastanza realistiche con tanti errori ancora con tanti punti in cui chiaramente si capisce che sia un bot dall'altra parte però in effetti l'entusiasmo è grandissimo e sì stiamo andando veloce poi adesso con il prossimo passo che è GTP4 che non è ancora GTP4 che non è ancora accessibile in maniera aperta a tutti gli utenti però con questo GTP4 si usano anche le immagini e i video quindi sicuramente il potenziale è gigantesco e io penso alla mia area di applicazione che è quella di medicina e salute e in effetti è un'area per esempio dove ci sono testi immagini altri tipi di dati tutti da mettere insieme quindi un qualcosa che sintetizza i dati ovviamente offre grandissime potenzialità e quindi sì c'è molto interesse soprattutto negli ultimi sviluppi sicuramente ecco a proposito di ultimi sviluppi e qui passiamo alla fase più di attualità uno proprio lui Elon Musk quello di Tesla quello tra i fondatori di OpenAi è quello che ha lanciato il primo vero allarme rispetto a uno sviluppo incontrollato di questa intelligenza artificiale ha detto che addirittura è un rischio per l'umanità intera come la mettiamo? Allora innanzitutto bisogna il modo in cui l'ha detta è molto plateale e quindi attira l'attenzione bisogna però subito essere un attimo sinceri e onesti la comunità dell'artificial intelligence è da anni che si pone questi problemi non è che sono problemi che nascono adesso dalla lettera di Musk sicuramente questa lettera li porta ben evidenti a tutto il pubblico in un momento in cui le tecnologie specifiche che sono tra l'altro quella a cui la lettera si riferisce che sono queste tecnologie dietro CGPT dietro questi bot hanno avuto un'accelerazione molto grande e quindi ovviamente fa notizia adesso sicuramente ogni tecnologia ogni tecnologia di rompente come quella di AI sicuramente ha dei rischi non c'è tecnologia nuova che non abbia rischi si tratta di capirli si tratta di discutere insieme quindi non fermarsi alla lettera ma ovviamente di discutere insieme sicuramente mettere insieme strumenti per capire queste tecnologie in modo che tutti possono capire queste tecnologie in modo che si lavori insieme in modo che siano trasparenti questo è sicuramente un messaggio corretto che penso tutti condividono adesso sulle modalità della lettera o non della lettera si può si può insomma si può chiacchierare oltre alle modalità della lettera è anche appunto di Elon Musk che è un personaggio molto particolare per questo anche fa molto rumore questa lettera c'è anche un messaggio che lui e altri mandano ossia fermiamoci fermiamoci sei mesi nello sviluppo e ragioniamoci può essere un rischio fermare un processo che sembrava veramente inarrestabile in questo momento oppure può essere un'opportunità ma innanzitutto ci sono lui non dice fermiamoci perché sicuro c'è una frase nella lettera in cui dice sicuramente questo non vuol dire la traduzione italiana ma sicuramente questo non vuol dire che dobbiamo fermare tutte le AI lui dice fermiamo certi tool specifici quindi anche questo ci dà il contesto bisogna sempre vedere una lettera e leggerla tutta nel contesto lui dice fermiamo certi tool specifici e dice esplicitamente non fermiamo tutte le AI quindi sicuramente condivido di non fermare tutte le AI se fermare il tool specifico adesso sono sono discussioni abbastanza tecniche nel senso che bisogna capire se il tool in questo momento questo specifico tool che poi sono appunto questi tecnologie GPT pongono un rischio immediato per esempio ovviamente se pongono un rischio immediato bisogna usare i canali che tra l'altro già ci sono per fermarli oppure non è meglio invece svilupparli e cominciare a mettere tutti insieme aprire la discussione quindi agire tutti insieme non so a livello europeo a livello anche mondiale agire tutti insieme e mettere insieme una serie di criteri poi la lettera in realtà dice fermiamoci ma non è troppo specifica su cosa facciamo in questi sei mesi cioè noi ci fermiamo per sei mesi però cosa facciamo in questi sei mesi e questo non viene detto ovviamente perché nello spazio di una lettera non si può dire insomma la lettera è un buon veicolo per far notizia però poi bisogna pensare e la tempistica è giusta perché è una tempistica siamo in un momento in cui questi tool davvero stanno stanno improvvisamente offrendo opportunità che prima non c'erano quindi ovviamente è il momento giusto e sicuramente ben venga la discussione se la lettera voleva essere aprire la discussione sicuramente ben venga quello che fa un po' impressione qui parlando un pochino in giro quindi faccio un discorso piuttosto terra terra è che quest'allarme arriva proprio dalle persone che hanno più spinto perché queste cose accadessero perché oltre a Musk poi c'è anche Wozniak che è il guru di Apple e tanti altri scrittori insomma gente che dell'intelligenza artificiale è stata veramente una dei veri fautrici ecco alcuni potrebbero dire ma se ne accorgono adesso perché forse sono stati commessi degli errori prima e cercano un po' di coprirsi le spalle o è un discorso un po' un po' generale la tempistica degli eventi bisogna sempre poi vederla nella storia quindi magari il contesto è più ampio sicuramente la discussione non è nata oggi la discussione c'è e c'è da un po' dopodiché ci sono anche forse dei fatti di contesto storico in cui magari è un buon momento per iniziare la discussione e quindi viene lanciata in realtà sulla lettera quelli che hanno firmato la lettera vengono fuori notizie che non è poi così chiaro che sono proprio tutti dalla stessa fase insomma c'è anche una discussione sulla modalità in cui è stato fatto però non confonderei troppo la modalità che vabbè la modalità che è stata scelta ha invece la sostanza della questione nel senso che davvero bisogna discutere le nuove tecnologie davvero bisogna avere dei modi di sviluppare soprattutto che consentano il dialogo consentano di conoscere cosa le varie le varie parti stanno facendo questo sicuramente c'è bisogno e ovviamente c'è bisogno di proteggere la privacy quindi la sostanza e la discussione ben venga adesso sulla modalità della lettera uno può pensare varie dietrologie però vabbè ci sono anche interessi commerciali che si chiaramente ci sono insomma però la sostanza è giusta se si vuole come sostanza intendere che bisogna discutere sicuramente la sostanza è giusta lei parlava appunto di fermarsi se ci sono veramente dei rischi concreti oggettivamente qualcosa nelle ultime settimane è successo che ci ha un po' quantomeno insospettito la questione del piumino del Papa Francesco oppure delle foto del finto arresto di Trump ecco ci fanno capire che davvero può esserci un rischio concreto che se finisca nelle famosi mani sbagliate questa tecnologia può essere molto pericolosa lei parlava di sicurezza ci sono dei protocolli di sicurezza che devono essere messi in atto di cosa si tratta e davvero quanto possiamo rischiare secondo lei in questo momento sì allora tra l'altro i protocolli di sicurezza ci sono già nel senso che non è che non ci sono protocolli di sicurezza per le AI nel suo complesso ci sono già e tra l'altro sono citati anche nella lettera quindi non è che non ci siano ovviamente i protocolli di sicurezza devono adeguarsi continuamente alla nuova tecnologia e quando la tecnologia va veloce i protocolli devono adeguarsi velocemente questo di sicuro poi c'è anche un fatto di percezione del rischio nel senso che quando la gente vede immagini così realistiche ovviamente la percezione del rischio diventa più alta e se questo fa sì che noi impariamo più velocemente i problemi legati a una certa tecnologia ben venga nel senso ben venga a fare queste illustrazioni di potenziale pericolo se questo non diventa semplicemente panico ma diventa un modo per accelerare i processi e la discussione su queste cose questo sicuramente e poi si tratta anche però di imparare noi a usufruire di una tecnologia nel senso imparare noi come comunità a capire come governare queste cose quindi per esempio nel caso delle foto ci sono già app che predicono se una foto o un testo è stata prodotta da artificial intelligence quindi questo fa parte dello sviluppo lo sviluppo di app che ci proteggono come ci sono le app contro le frodi come ci sono le app della sicurezza aeroportuale ci sono la produzione di app per la sicurezza dell'integnamento artificiale questo fa parte della ricerca quindi questo lo fermiamo oppure no insomma il dialogo è più complesso certo se però la tecnologia accorre così tanto anche le applicazioni di difesa dovranno dovranno adeguarsi a una rapida velocità certo sicuramente e bisogna discuterne adesso e molto per evitare problemi sicuramente c'è una cosa che mi ha fatto molto divertire preparando questa diretta perché io da ragazzo amavo tantissimo Terminator e l'idea che uno scenario del genere possa attualmente anche solo parlarne è veramente interessante perché lì c'era una macchina un'intelligente artificiale che diventa più evoluta e quindi poi pericolosa per l'umanità allora rimanendo nel campo diciamo ovviamente del dibattito è un qualcosa a cui possiamo avvicinarci secondo lei ma io ho fatto l'esempio di Wall-E perché mi piace di più io sono un pochino più drammatico sono più romantica esatto però è la stessa cosa la stessa domanda no non siamo ancora a Terminator non siamo ancora a un'intelligenza che prende coscienza di se stessa un'intelligenza artificiale che prende coscienza di se stessa un'intelligenza artificiale autonoma non ci siamo ancora le applicazioni di cui stiamo parlando non sono ancora questo ovviamente sono applicazioni molto potenti che nelle mani delle persone sbagliate possono diventare strumenti pericolosi ma non sono autosufficienti quindi non siamo uno scenario Terminator e neanche Wall-E purtroppo perché Wall-E salva il pianeta sarebbe stato più rassicurante sicuramente e allora finalmente arriviamo nell'ultima parte in cui abbiamo detto tutte le criticità adesso guardiamo con un po' di fiducia al futuro Bill Gates dice che comunque l'intelligenza artificiale può essere davvero salvifica per l'umanità e quindi possiamo essere fiduciosi per le applicazioni davvero positive in questo progresso ma sicuramente cioè io poi lavoro in un'area che mi vicina sì poi ne parliamo sicuramente sì sì non lo so che vuol parlare ma sicuramente la medicina è una di quelle aree dove l'intelligenza artificiale sta portando molti benefici ma poi ci sono tutta una serie le ho nominate anche all'inizio la sicurezza quindi io starei tranquilla starei tranquilla con le dovute insomma con le dovute precauzioni di una nuova tecnologia però starei tranquilla le applicazioni sono molte dalla salute pensiamo allo sviluppo pensiamo all'ambiente e stanno crescendo e quindi da quel lato lì non vedo preoccupazione ecco tra i vari ambiti di cui abbiamo parlato adesso e cui accennava c'è anche per esempio quello del lavoro lo stesso Bill Gates diceva che un'intelligenza artificiale applicata al mondo del lavoro può trasformarsi in un assistente importante per l'essere umano che lavora e quindi migliorare la produttività e anche la qualità del lavoro questa mi sembra un'ottima applicazione ottima tra l'altro può liberare un po' di tempo magari ne parliamo da tanto non è ancora successo però magari comincia a liberare un po' di tempo ma soprattutto libera il tempo da compiti in cui l'artificienza l'intelligenza artificiale è molto brava per esempio compiti ripetitivi compiti in cui molto velocemente si devono guardare tanti dati l'intelligenza artificiale è più brava di noi a questi compiti e a noi non piacciono tanto perché sono ripetitivi insomma facciamo errori e quindi su tutte queste cose sicuramente ci toglie stress e ci facilita il lavoro e poi ci permette cose risultati che prima non erano ottenibili nel senso che prima la quantità di documenti che adesso si possono vagliare per un determinato lavoro e usare non era proprio possibile quindi ci portano a risultati che prima non potevamo ottenere quindi sicuramente nel mondo del lavoro un'interazione uomo-intelligenza artificiale dove facciamo fare l'intelligenza artificiale le mansioni più ripetitive meno creative è sicuramente gratificante ecco a proposito di meno ricreative e passando appunto all'ambito che più le ha a cuore quello della sanità ci viene in mente per esempio il famoso medico di base che non è che proprio nel farci il ricetto comunque occuparsi di questioni amministrative è contentissimo e questo ce lo dimostra anche in questo l'intelligenza artificiale può essere davvero utile cioè liberare elementi dei medici dei dottori da compiti amministrativi per portarli verso lo sviluppo e la ricerca sicuramente già solo se uno pensa raccogliere i dati di un paziente per una diagnosi o passare i dati da un centro all'altro per una diagnosi da un reparto all'altro per una diagnosi oppure iniziare del trial clinici mettere tutta l'informazione insieme per iniziare dei trial clinici su questo intelligenza artificiale ci può far velocizzare molto e liberare il tempo di appunto mani preziose che invece servono per pensare alla cura e attuare la cura invece che fare amministrazione sicuramente ecco lei parlava di trasferimento di diagnosi proprio nella diagnostica è forse uno dei settori all'interno del settore della sanità in cui l'intelligenza artificiale è stata applicata per prima si parla ancora degli anni 70 e 80 dove ci può portare questo sviluppo che sarà sempre più più importante può essere davvero determinante sì ma tra l'altro è uno dei settori dove si sono fatti molti passi con tanti ancora da fare però comunque molti passi nel senso che adesso per esempio si possono usare analisi di immagini per vedere tumori molto presto e quindi offrire una cura in casi in cui non si poteva neanche vedere il tumore a occhio libero oppure si possono monitorare situazioni quindi si possono salvare vite per esempio cito i monitor per le persone che hanno il diabete in cui il glucosio è non dieterizzato e quando ci sono cali di glucosio ovviamente si può intervenire e questo è importante soprattutto per i bambini che non sanno riconoscere questi cali di glucosio quando invece gli arriva un allarme da un oggettino che si mettono in vita ovviamente questo può salvargli da grosse complicazioni quindi abbiamo detto diagnosi monitoraggio ma poi nella diagnosi anche l'uso di altri dati che prima non c'erano negli anni 80 non c'erano negli anni 80 potevamo già usare alcune tecniche di immagini ma non possiamo usare per esempio i sequenziamenti che possiamo usare adesso 20 anni fa nel 2000 c'è stato il sequenziamento il primo sequenziamento del genoma umano è costato centinaia di milioni di dollari adesso possiamo sequenziare con poco costo il costo di un telefonino e possiamo sequenziare rapidamente quindi anche il fatto che possiamo raccogliere dati biologici sulle persone che aiutano a monitorare oppure a diagnosticare le malattie prima è un momento con un enorme potenziale ecco quindi per chiudere perché il nostro tempo è terminato in parte abbiamo già risposto a questo quesito ma rifacciamo un piccolo riassunto abbiamo visto da dove arriviamo abbiamo visto i rischi che stiamo correndo come possiamo difenderci e abbiamo visto le incredibili applicazioni per il futuro insomma bisogna essere preoccupati o fiduciosi per il futuro si può arrestare un processo o è meglio proseguirlo controllato no beh arrestare il processo arresterebbe anche quelle applicazioni positive dell'intelligenza artificiale quindi sicuramente però ovviamente il controllo e l'applicazione di nuove tecnologie devono proverire insieme quindi una buona compromessa da prudenza e positività e entusiasmo probabilmente è la ricetta giusta sicuramente abbiamo già applicazioni utili tangibili che salvano la vita delle persone e quindi fermarsi non ha neanche senso ha senso monitorare alcuni tool particolari e pensare a soluzioni per poter usare le parti positive in maniera sicura sicuramente io sono positiva perfetto lo siamo tutti anche uo lì immagino allora io la ringrazio ringrazio la professoressa Francesca Buffa che è stata con noi molto utile grazie mille e io vi ringrazio anche per la vostra attenzione e vi aspetto per i prossimi lunedì dei live di Snack News e buon pomeriggio a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti